Gnocchi al pesto di noci e pomodoro. I gnocchi al pesto di noci e pomodoro sono un primo piatto saporito e veloce da preparare. Un mix di sapori mediterranei e di consistenze croccanti che renderanno questo piatto una vera prelibatezza. Gli ingredienti principali di questa ricetta sono i gnocchi, il pomodoro e le noci. Per preparare questo piatto è necessario seguire i seguenti passaggi. Preparare il pesto di noci e pomodoro, cuocere i gnocchi in acqua bollente, scolare i gnocchi e versarli nella padella con il pesto, saltare i gnocchi e servire. Una volta pronti, i gnocchi al pesto di noci e pomodoro saranno un primo piatto ricco di sapore, perfetto per una serata con gli amici o una cena in famiglia. Provateli!